Ciao, mi chiamo Luca e ho 33 anni e vengo da Palate, un paesino del Molise, provincia di Campobasso. Ho iniziato a lavorare in Primaland nel 2013, fisso sono 4 anni. Io sono responsabile della produzione e diciamo che faccio un po' tutto, dal taglio legno o taglio PVC, saldatura del PVC, riparazioni gonfiabili, cucitura delle componenti dei playground. In più andiamo a fare delle trasferte con allestimenti di gonfiabili in vari piazzi cittadini in Italia. Mi piace che è un lavoro dinamico, non ti annoi mai perché non fai sempre la stessa cosa, non è monotono. Da bambino il sogno era il calciatore. Primaland offre la serietà, la professionalità per fare le cose. Scegliete Primaland perché sembrano i meglio. Scegliete Primaland Scegliete Primaland